13 milioni di euro destinati alla microimpresa abruzzese. La Regione presenta l'avviso pubblico rivolto a chi, in assenza di sostegno delle banche, vuol mettere su impresa oppure ampliare gli orizzonti di quella già in essere. 13 milioni di euro attraverso lo strumento del microcredito per aiutare gli abruzzesi a fare impresa, ma per aiutare gli abruzzesi anche a consolidare le imprese esistenti. Il microcredito è uno strumento economico che è concesso a soggetti non bancabili, e cioè a cittadini che altrimenti non avrebbero alcun prestito bancario. Quindi diciamo che è un atto di fiducia e di relazione che la Regione fa nei confronti dei cittadini abruzzesi che garantiscono con la loro capacità imprenditoriale e la loro voglia di fare. Dal 27 aprile all'8 maggio sarà possibile presentare le domande di ammissione tramite Abruzzo Sviluppo e tutte le informazioni attinenti all'avviso sono consultabili dal sito annesso www.abruzzosviluppo.it i soggetti svantaggiati e le donne avranno un punteggio maggiore e rispetto alle imprese già esistenti abbiamo per la prima volta in Abruzzo dato una diversa importanza, abbiamo inserito anche le cooperative di tipo B, cioè le cooperative che hanno al loro interno soggetti svantaggiati, disabili, ex detenuti. Quindi è uno strumento che si usa da tanti anni ma che è stato rivisto con una luce nuova, diciamo con una linea diversa proprio per andare maggiormente incontro alle esigenze attuali dei nostri cittadini.